Avanza il covid in Basilicata 224 e casi riscontrati oggi focolai a Matera nella casa di riposo Sant'Anna di Lavello e a Montalbano Ionico aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Task force in ritardo su tutto dalla notifica dei dati al piano covid bocciato due volte dal governo ora c'è il rischio di perdere 7 milioni di euro. Screening oncologici fermi circa 23 mila gli esami in meno rispetto ad un anno fa protestano CGL e Will. Oggi 4 novembre si celebra la giornata dell'unità nazionale la festa delle forze armate e celebrazioni in forma sobria a causa della pandemia. Oggi come ogni mercoledì torna sulla nuova tv Pianeta Puzzle la nostra trasmissione dedicata al calcio a 5. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv l'emergenza coronavirus sempre in primo piano nel nostro Tg e lo sentivate dai titoli sono 224 i nuovi positivi in Basilicata Focolai ci sono a Matera nella casa di riposo Sant'Anna di Lavello e a Montalbano Ionico e aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Nuovo record di casi registrato oggi a fronte di 1643 test processati sono 224 i lucani risultati positivi e ci sono sei ricoverati in più quattro dei quali in terapia intensiva a Matera. Tra i centri maggiormente colpiti c'è proprio la città dei Sassi dove sono stati rilevati 41 soggetti positivi 18 a Irsina già resi noti da Morea ieri e sei in più a Genzano i due centri da ieri mattina diventati zone rosse. Preoccupa il focolaio di Lavello il sindaco Sabino Altobello ha annunciato la positività di 18 persone afferenti la casa di riposo Sant'Anna 12 ospiti e sei operatori. Lo screening ha riguardato 35 persone dopo le prime sei positività emerse nel fine settimana scorso. Molto probabilmente gli anziani covid saranno trasferiti in un'altra struttura in modo da ricevere tutte le attenzioni possibili dei sanitari. A Montalbano Ionico invece su 80 tamponi eseguiti domenica scorsa sono 23 i casi nuovi accertati. La situazione vede ora 26 cittadini in isolamento due ricoverati e un anziano isolato in una RSA. Chiuse le scuole di ogni ordine grado fino a sabato inoltre positivo anche un dipendente comunale che risiede altrove pertanto chiusi anche gli uffici comunali oggi e domani. A tricarico invece nell'ambito di un'indagine epidemiologica eseguita sui contatti di 28 positivi sono emersi altri 13 casi. Anche Carbone ha deciso l'interruzione dell'attività didattica a partire da domani per tutte le classi frequentanti il plesso di via Fratelli Cervi per la sanificazione degli ambienti. L'attività didattica riprenderà venerdì. A Ferrandina tra gli 11 casi accertati ce ne sono alcuni anche in ambito scolastico. Quattro i soggetti in età scolare attualmente positivi a seguito di uno screening approfondito. Martoccia però sostiene che il contagio non sarebbe avvenuto all'interno dei luoghi scolastici. 9 casi anche a Rionero e Venosa, 7 ad Avigliano, 6 a Stigliano tra cui un medico di famiglia. Sospese anche qui le attività didattiche. 5 positività anche a Rotonda dove salgono così a 12 gli attuali positivi di cui uno domiciliato nel comune di Vigianello. Quattro i casi nel capoluogo di regione. Nessun decesso, 11 guariti, 3 a Potenza, 2 a Marsico Vetere e Melfi, uno a Marsico Nuovo, Rionero, Sanchirico Nuovo e Francavilla. Il Premier Giuseppe Conte ha firmato questa notte il DPCM che entrerà in vigore da domani e fino al 3 dicembre. Il decreto istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene una regione. In tutta Italia scatta il coprifuoco dalle 22 alle 5. In questa fascia oraria saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. E in ogni caso raccomandato a tutte le persone per tutto l'arco della giornata di non spostarsi se non necessario. Per la Basilicata che rientra nella fascia verde, ovvero con RT più basso, il DPCM prevede inoltre la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi, didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori, trasporto pubblico locale dimezzato con capienza massima al 50%, musee e mostre chiusi così come teatri e cinema. In relazione al DPCM il Presidente della Regione Bardi non esclude interventi più restrittivi sul nostro territorio come la chiusura di tutte le scuole a partire dai prossimi giorni se la situazione dovesse peggiorare. Sentiamo. Noi su tante cose come Regioni non abbiamo avuto un'intesa completa con il Governo. Noi soprattutto per ciò che attiene anche alle scuole, noi ci siamo mostrati anche favorevoli a un'eventuale chiusura di tutte le scuole, però chiaramente questo deve essere compensato da ristori, deve essere compensato da congedi parentali, l'abbiamo detto a chiare lettere perché il vero problema pure della chiusura di tutte le scuole che non escluso che si faccia e che io possa fare un'altra ordinanza proprio nell'immediato, deve essere compensato da misure pure di carattere economico che non vadano ad incidere negativamente sulle famiglie che già sono tante uberate e tanto gravate. Quindi oltre questo poi il discorso pure del coprifuoco, delle ore che sono state individuate, mi sembra una cosa molto blanda perché il vero problema è quello che si è voluto evidenziare, non è quello di limitare nel tempo come durante le ore notturne, ma il vero problema è evitare gli affollamenti. Noi avevamo chiesto a gran voce che per evitare questo si dovesse procedere a una chiusura totale almeno per una decina di giorni, che è l'unico modo per evitare che ci siano questi affollamenti, perché quello che è emerso e che io ho anche voluto rappresentare insieme ad altri presidenti di regione, che quando si fanno questi provvedimenti quello che manca sono i controlli. Noi sappiamo che i controlli sono carenti perché sarebbero tanti, è impossibile poter controllare e quindi la gente soprattutto nelle grosse città ma anche nelle nostri territori in delle ore particolari si riversano sul territorio e quindi è impossibile poter esercitare questa attività controllo. Lì dove è possibile esercitare di controllo bisogna intervenire con misure molto più drastiche. Intanto la Basilicata è in ritardo nella trasmissione dei dati Covid all'Istituto Superiore di Sanità e si rischia di perdere un finanziamento di oltre 7 milioni di euro. La regione infatti non ha ancora presentato il piano operativo Covid richiesto a marzo per poter accedere ai fondi. il servizio di Mariolina Notar Giacomo. Dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità come riportato nella tabella che nello specifico comprende il coefficiente di ritardo per il periodo che va dal 12 al 15 ottobre si evince chiaramente la difficoltà da parte del sistema sanitario lucano di inviare tutte le informazioni richieste per il monitoraggio nazionale nonostante in Basilicata in quell'arco di tempo si è registrato un peggioramento diffuso della trasmissione del contagio il cui trend è rimasto in crescita fino alla dichiarazione delle zone rosse Ersine e Genzano dati incompleti che come nel caso della Valle d'Aosta che con la nostra regione fa segnare un RT basso l'indice di trasmissione non certificano in realtà la pressione sulle strutture sanitarie e la disponibilità dei letti il tasso dei positivi sui tamponi effettuati e molto molto altro tutte informazioni in base alle quali stando al documento prevenzione e risposta al covid 19 già condiviso in sede di conferenza delle regioni l'esecutivo nazionale deciderà le misure da imporre in aggiunta a quelle attuali siano esse più dure o meno restrittive e nonostante la curva dei contagi resti in crescita e la dichiarazione di due cittadine lucane off limits la basilicata è finita tra le regioni con il livello di contagio basso ci chiediamo se i ritardi di notifica settimanale del contesto territoriale al sistema di sorveglianza integrato non abbia compromesso la definizione certa della collocazione della regione tra quelle a minore impatto c'è da rilevare un altro aspetto non di poco conto quello che vede la task force regionale ancora alle prese con la stesura del programma operativo regionale covid la conferma ci viene dalle due bocciature consecutive da parte del ministero dell'economia e delle finanze del piano quest'ultimo richiesto alle regioni a marzo a fronte della corresponsione dei finanziamenti ripartiti nel paese alla basilicata aspetterebbero oltre 7 milioni di euro a distanza di sei mesi e dopo i due tentativi falliti l'ultima possibilità offerta dal di castero è stata fissata al 31 dicembre prossimo e parliamo ora degli screening fermi causa covid sono circa 23 mila gli esami in meno rispetto ad un anno fa sentiamo celestino benedetto i numeri sono preoccupanti e possono aprire un nuovo fronte di rischio sono almeno 23 mila gli esami di screening oncologico tra mammografie colon retto e cervico uterino in meno rispetto agli standard dello scorso anno in basilicata circa 15 mila tra quelli di primo livello 5 mila solo a potenza città e 10 mila a matera cifre allarmanti che in questo delicato momento per la sanità rischiano di vanificare gli oltre 20 anni di politiche della prevenzione fiore all'occhiello della regione il confronto rispetto al 2019 è impietoso solo tra mammografie di screening eseguite dalla fora la società che gestisce il servizio in appalto all'interno delle strutture del servizio sanitario regionale e attraverso le unità mobili oltre che tra quelle eseguite dal personale del servizio sanitario il delta è di quasi due terzi peggio per gli esami cervico colon retto le cui sedute venivano spesso pianificate insieme in questo caso tra prelievi pap test ed antipapilloma tra pubblico e appaltato il decremento è molto marcato ad oggi poi ed è il dato più preoccupante le strutture del servizio sanitario regionale non hanno ancora eseguito tutte le indagini di secondo livello tra cui la colon scopia per gli utenti risultati positivi agli screening prima del lockdown di marzo e aprile il grave ritardo nel garantire lo screening oncologico attaccano michele sanazzaro della filcams cgl e donato rosa della wiltux e l'evidente dimostrazione di una ingiustificabile lentezza che rischia di essere pagata a caro prezzo da quei cittadini lucani a cui la prevenzione potrebbe salvare la vita a ciò si aggiunge la non meno preoccupante condizione dei lavoratori impiegati in tali servizi e che aspettano di tornare all'occupazione chiediamo ancora una volta all'aspe all'asm di agire al più presto senza perdere altro tempo siamo alla cronaca giudiziaria dalle prime ore di questa mattina sono in corso alcune perquisizioni a carico del consigliere regionale della lega pasquale cariello i carabinieri si sono presentati presso l'abitazione di scansano ionico del consigliere pare gli accertamenti siano stati disposti dalla dda di potenza in relazione all'organizzazione di un concerto nell'estate del 2018 già oggetto dell'indagine che aveva portato allo scioglimento del comune per presunte infiltrazioni criminali all'epoca dei fatti cariello difeso dall'avvocato vittorio faraone era consigliere comunale di opposizione e l'ipotesi di reato alla quale starebbe starebbero lavorando gli inquirenti e quella di abuso d'ufficio ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità c'è un modo per dare forma all'immagine della tua casa da sansone trovi le cucine più funzionali classiche e moderne i salotti più comodi le camere da letto più confortevoli 1500 metri quadri di esposizione con arredamento per la casa per il bagno per negozi uffici progettazioni su misura con trasporto e montaggio gratuiti sansone zona industriale garaguso scalo uscita basentana grassano garaguso isolarte costruzioni di nicola ruggiero dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile affidati a noi per il super bonus al 110 per cento con sopralluogo gratuito ed inoltre ristrutturazioni chiave in mano forniture pose in opera di infissi in pvc isolarte costruzioni di nicola ruggiero via siena 4 a potenza telefono 0 971 36 91 8 33 9 69 44 6 2 0 e dopo la pubblicità riprendiamo il nostro tg riprende oggi al tribunale di materia il processo relativo all'inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità processo che dopo una serie di intoppi legati anche all'emergenza covid entra nel vivo con i testimoni dell'accusa a cominciare dagli uomini della guardia di finanza i quali la procura della città dei sassi aveva delegato le indagini sono 22 gli imputati al centro delle contestazioni ci sono come detto presunti concorsi truccati in sanità inchiesta che nell'estate del 2018 fece scattare decine di arresti tra gli imputati anche l'ex governatore lucano marcello pittella per oltre due mesi sottoposti sottoposto agli arresti domiciliari accusato di concorso in abuso d'ufficio è falso per il filone di inchiesta riguardante un paio di concorsi banditi dall'asma di matera sul banco degli imputati anche l'ex commissario e l'ex direttrice amministrativa dell'azienda sanitaria di matera pietro quinto e maria benedetto gli unici a finire in carcere nel luglio 2018 salvo tornare rapidamente in libertà dopo aver rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi oggi 4 novembre giornata di commemorazione dei caduti di tutte le guerre con un significato particolare ai tempi del covid celebrazioni in forma sobria nei capologhi noi siamo stati al parco di montereale a potenza il servizio di alessandro panuccio ci sono guerre guerre quelle del secolo scorso combattute in trincea contro le dittature e quelle del ventunesimo secolo come questa subdola contro il coronavirus perciò la ricorrenza del 4 novembre quest'anno assume un valore particolare visti i provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza sanitaria in atto la celebrazione della giornata dell'unità nazionale delle forze armate si è svolta in forma sobria nel necessario rispetto del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento il prefetto di potenza annunziato vardè insieme al presidente della regione basilicata vito barbi al sindaco mario guarente al presidente della provincia rocco guarino e al comandante militare dell'esercito di basilicata augusto gravante dopo la sabandiera hanno deposto una corona al monumento e caduti nel parco di montereale a potenza necessario ricordare in ogni caso quella storica ricorrenza nella quale l'italia completò la conquista dell'unità territoriale e per soprattutto per ricordare i quasi i 700 mila caduti in guerra italiani caduti in guerra morti per con per quella storica conquista anche la festa delle forze armate e quindi dobbiamo rivolgere un ringraziamento alle nostre forze armate che si prodigano per la nostra sicurezza per il nostro benessere e ne abbiamo una dimostrazione tangibile con l'operazione strade sicure e vista l'emergenza alcuni comuni come sant'arcangelo hanno ritenuto di annullare le celebrazioni primo 4 novembre per il neosindaco di matera bennardi che ha reso maggio ai caduti o dispersi di tutte le guerre a melfi livio valvano ha deposto una corona di alloro dinanzi al monumento dei caduti nella villa comunale anche qui celebrazione in forma statica e con un numero limitato di partecipanti e sempre a potenza una medaglia d'onore è stata consegnata in prefettura al nipote di antonio mecca soldato di leva classe 1923 chiamato alle armi l'11 gennaio 1943 e inviato presso il quarto reggimento artiglieria a bolzano fu uno delle migliaia di internati militari italiani e prigioniero nel corso del secondo conflitto mondiale accusato di atti persecutori aggravati ai danni della ex fidanzata matera un giovane della provincia di taranto di 18 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia il 18enne oltre a tempestare la ex di messaggi telefonate e squilli le aveva l'aveva anche minacciata che se non fosse tornata con lui avrebbe diffuso sue foto intime la ragazza ha mostrato alla polizia una foto inviata dall'ex fidanzato in cui era raffigurato una pistola e diversi proiettili con la quale le annunciava il suo arrivo sotto casa nella città dei sassi ma all'appuntamento concordato in un centro commerciale il 18enne ha trovato la polizia che lo ha arrestato l'inchiesta sulla presunta turbativa d'assa per l'affidamento delle luminare natalizia a melfi il gruppo del tribunale di potenza lucio setola ha rinviato a giudizio il sindaco della cittadina federiciana livio valvano l'ex presidente del consiglio comunale luigi simonetti al termine dell'udienza preliminare del processo per quanto riguarda simonetti l'imprenditore antonio ferrieri però è caduta l'accusa di corruzione elettorale cade anche il capo di imputazione relativo all'affidamento diretto di altri lavori pubblici con il conseguente proscioglimento della moglie di ferrieri rosa capobianco e il capo dell'ufficio tecnico michel l'arcangelo moscaritolo sollevato da ogni accusa anche l'ex assessore aldo di chio a processo la prima udienza è stata fissata per il prossimo 11 marzo andranno quindi oltre a valvano e simonetti gli imprenditori elio di gregorio e francesco roberto e siamo allo sport oggi pomeriggio alle 15 e 30 nuovo appuntamento con pianeta futsal la nostra trasmissione dedicata al calcio a 5 fare i puntati sul ritorno alla vittoria del cmb matera in serie a e sul ko del bernalda in a2 nel corso della puntata verrà affrontato anche il tema dell'emergenza sanitaria in collegamento skype mister giuseppe benevento della potenza calcio a 5 vediamo la clip di presentazione della puntata grazie a tutti e c'è una notizia di basket in chiusura l'olimpia matera comunica che dopo l'ultima serie di controlli sono stati riscontrati tre casi di positività al covid 19 nel gruppo squadra i tre cestisti stanno bene sono asintomatici e sono stati immediatamente messi in isolamento secondo il protocollo federale gli altri membri del gruppo squadra sono risultati tutti negativi nei prossimi giorni verranno effettuate nuove verifiche ed è tutto per questa edizione la prossima alle 19 grazie per la cortese attenzione e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti